Ciao a tutti, sono Ivan e benvenuti su DaZero. Oggi vediamo come creare una tabella delle temperature in Marlin. In un video precedente vi avevo parlato della calibrazione del PID attraverso il PID Autotune. Il PID è un controllo che permette di mantenere il più stabile possibile le temperature dell'hotend e nel caso sia attivato anche del piatto riscaldato. In modo quindi da evitare delle oscillazioni di temperatura durante la stampa che potrebbero creare problemi ma anche generare dei falsi thermal runaway. Affinché però la calibrazione del PID sia efficace, la temperatura rilevata dalla stampante deve equivalere a quella reale o comunque avere un errore trascurabile. È importante quindi assicurarsi di aver impostato correttamente la tipologia di thermistore nel file di configurazione di Marlin. Può capitare però che nonostante si abbia impostato la tipologia corretta di thermistore la temperatura rilevata dalla stampante differisca da quella reale anche di decine di gradi. E questa condizione potrebbe anche verificarsi in determinati range di temperatura quindi non essere sempre un errore costante. Marlin per determinare le temperature utilizza delle tabelle nelle quali è associato il valore di resistenza del thermistore a una determinata temperatura. Queste tabelle sono formate sostanzialmente da due colonne. Nella prima colonna verranno riportati i valori di resistenza del thermistore e nella seconda colonna invece le temperature. Quindi in pratica ad ogni valore di resistenza del thermistore viene associata una determinata temperatura. Tutti i valori di temperatura intermedi verranno poi calcolati da Marlin sulla base del minimo inferiore e del massimo superiore. Quindi quello che faremo oggi sarà proprio andare a creare o a modificare una tabella delle temperature. Per fare questo però avremo bisogno di uno strumento di misurazione esterno. Io ad esempio utilizzerò un multimetro dove ho la possibilità di poter collegare una termocoppia. Inoltre dovremo abilitare nel file configuration.adv.h anche l'impostazione che vedete ora a video. Tramite questa impostazione potremo infatti leggere i valori del thermistore sia dell'hotend che del piatto riconvertiti con un valore digitale. Quello che faremo poi sarà andare a impostare una temperatura sulla stampante attendere che questa temperatura si stabilizzi e andare a confrontare poi il valore di resistenza del thermistore con la temperatura rilevata sullo strumento di misura esterno. Una volta quindi modificato il firmware siamo pronti per andare a creare la nostra tabella delle temperature personalizzata. Quindi direi di cominciare. In Marlin ad ogni tipologia di thermistore viene associata una tabella delle temperature. Queste tabelle le possiamo trovare in src-module-thermistore. Se ad esempio nel file configuration.h impostiamo come temp-sensor0 la tipologia di thermistore numero 1 verrà utilizzata la tabella delle temperature contenuta all'interno del file thermistore underscore 1.h. Così come se impostiamo la tipologia di thermistore numero 5 verrà utilizzata la tabella delle temperature contenuta all'interno del file thermistore underscore 5.h e così via. Ma vediamo più nel dettaglio come sono composti questi file. Quello che state vedendo in programmazione viene chiamata matrice o array. In questo caso si tratta di un array bidimensionale poiché ogni valore dell'array in realtà è un ulteriore array o matrice dove al suo interno sono impostati due valori. Comunque ai fini di questo tutorial non ci interessa il lato della programmazione quindi immaginate quello che state vedendo come una vera e propria tabella composta da due colonne. Nella prima colonna, quindi tutti i numeri compresi tra queste due parentesi tonde sono rappresentati i valori digitali del thermistore mentre nella seconda colonna, quindi tutti i numeri dopo questa virgola sono rappresentati i valori di temperatura espressi in gradi centigradi. Ogni tabella delle temperature può avere più o meno dati. Aumentare il numero di dati all'interno della tabella ci permetterà di avere una precisione maggiore durante la rilevazione della temperatura. Comunque tutti i valori intermedi verranno calcolati da Marlin in base ai valori che sono già compresi all'interno della tabella delle temperature. In questo video io andrò a utilizzare una tabella già preconfigurata andando poi a modificarla in base ai valori di temperatura che rileverò sullo strumento di misura esterno. Nel caso vogliate inserire dei dati in più rispetto a quelli già presenti all'interno della tabella vi basterà copiare una riga della tabella per poi andarla a incollare modificando poi successivamente i valori del termistore e della temperatura. Vi consiglio infine di effettuare una copia di backup del file che andrete a modificare così in caso di errori potrete sempre tornare indietro. Ora non ci rimane che andare a rilevare il valore digitale del termistore e la temperatura che viene rilevata dallo strumento campione andando quindi poi a completare la nostra tabella. Nelle stampanti 3D generalmente vengono utilizzati dei termistori di tipo NTC cioè coefficiente di temperatura negativo. Questo significa che all'aumentare della temperatura il valore di resistenza del termistore al contrario diminuirà. Inoltre quello che andremo a rilevare non sarà il vero valore di resistenza espresso in Ohm del termistore ma bensì il suo valore digitale che sarà un numero compreso tra 1023 e 0 poiché solitamente in Marlin viene utilizzata una risoluzione di conversione analogico digitale pari a 10 bit. Ok ora quello che dovremo andare a fare sarà andare a rilevare il valore digitale del termistore e lo potremo fare direttamente utilizzando l'interfaccia grafica di Prointerface ad esempio oppure utilizzando il comando Gcode M105 sia che utilizzate Prointerface o direttamente il comando Gcode quello che visualizzeremo saranno le temperature relative all'hotend e al piatto. Noi ora ci focalizzeremo sulla temperatura dell'hotend ma più in particolare ci interessa il numero che troveremo all'interno delle parentesi tonde. Questo valore infatti non è altro che il valore digitale del termistore. Ora non ci rimane che andare a visualizzare la temperatura attraverso il nostro strumento di misura esterno. Vi consiglio di iniziare per prima cosa rilevando la temperatura ambiente. Non ci rimane quindi che prendere nota sia del valore digitale del termistore sia della temperatura rilevata dallo strumento campione andando così poi a modificare la tabella delle temperature. Ora invece impostiamo una temperatura di setpoint per quanto riguarda l'hotend e attendiamo che la temperatura si stabilizzi. Una volta che la temperatura si sarà stabilizzata dovremo andare a ricavare nuovamente il valore digitale del termistore attraverso il comando Gcode M105. Prendete nota quindi del valore digitale del termistore e associatela alla temperatura rilevata dallo strumento campione. Impostiamo quindi un nuovo setpoint aumentando la temperatura. A questo punto rileviamo nuovamente il valore digitale del termistore attraverso il comando Gcode M105 e associamo questo valore alla temperatura rilevata dallo strumento campione. Ripetiamo quindi l'operazione aumentando gradualmente la temperatura fino ad arrivare alla temperatura massima impostabile dalla stampante. Potete quindi decidere il range di temperature da andare ad analizzare di volta in volta. Ad esempio potete impostare un setpoint graduale di 5 gradi per volta e quindi andare ad associare il valore digitale del termistore alla temperatura rilevata. Una volta quindi raccolti tutti i dati e associato quindi il valore digitale del termistore alla temperatura non ci rimane che andare a completare la tabella delle temperature direttamente in Marlin. Come dicevo prima maggiori saranno i dati che andrete ad inserire all'interno della tabella e maggiore sarà la precisione con cui la stampante rileverà la temperatura. Una volta quindi modificata e completata la tabella non vi rimane che compilare nuovamente il firmware e andarlo ad aggiornare sulla stampante. Una volta aggiornato il firmware misurate nuovamente le temperature per verificare che tutto sia corretto. Nel caso contrario andate nuovamente a rilevare il valore digitale del termistore e associatelo a una nuova temperatura. Direi quindi che con questo è tutto vi ricordo che se volete potete anche seguirmi su Instagram e su Telegram. Se il video vi è piaciuto lasciate un like se avete dei dubbi o delle domande lasciate un commento se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.